Stanca sulle gambe ed affaticata è stata questa la scandone osservata sul campo di Padru mercoledì sera con i biancoverdi che hanno giocato con il freno a mano tirato, ma non c'è da preoccuparsi perché c'è una facile spiegazione, gli Irpini in questa loro turnistarda non si sono mai fermati, hanno lavorato duramente tutti i giorni e questa settimana hanno caricato tanto agli ordini del preparatore atletico Silvio Barnabà che ha fatto sgobare i suoi ragazzi, in più coach Stefano Sacripanti sapendo che gli impegni sono molto ravvicinati non ha voluto tirare la corda, ha gestito gli uomini facendo riposare chi era particolarmente stanco come Adonis Thomas, ovviamente c'è anche chi ha reso meno rispetto alle aspettative ed è il caso di Levi Randolph che è sempre più il mystery man di questa scandone contro lo Sassari nel test di Padru il trecciolino è parso molto fuori dagli schemi, poco apparescente e troppo impegnato a ponderare qualsiasi azione di gioco, non lascia spazio all'istinto e sono da migliorare le letture perché più di una volta ha rifiutato tiri aperti e ben costruiti dalla squadra per mettere palla a terra ed attaccare il ferro in avvicinamento, Randolph nonostante i consigli di tecnici e compagni non sembra giocare con la mente libera, eppure vista anche l'altezza del fisico in attacco potrebbe essere un fattore avendo la possibilità di giocare spalle a canistro contro i pariruolo come spesso accade, ha bisogno di maggiore verve e sicurezza che forse arriverà soltanto con il tempo e l'esperienza. In questo momento l'ala dell'Alabama è il più indietro di tutti da un punto di vista tecnico. Oggi la formazione bianco-verde è partita per Bonn dove domani scenderà in campo per partecipare al torneo in internazionale con i padroni di casa del Telecom Bonn, il Darussafaka ed il Bayern Monaco. Grazie per la visione!